Solo una settimana fa mostravamo con le nostre telecamere il degrado e l'abbandono in cui versavano le cento fontane di Torre del Greco. Sabato 30 gennaio i volontari dell'AEC, associazione ecoculturale attiva per rivalorizzare le bellezze cittadine, sono intervenuti per risolvere la situazione. L'intervento è durato quattro ore ed ha visto la partecipazione di dieci giovani torresi. I ragazzi, con tanta buona volontà e tanta fatica, hanno raccolto e gettato i rifiuti di ogni tipo presenti in zona, estirpato le erbacce che avevano preso il sopravvento sulle antiche pietre e cercato di ridare un decoro al monumento. Quasi venti sacconi di immondizia, questa è la molle dell'inciviltà che i volontari hanno provato a contrastare. Ad oggi le cento fontane sembrano pulite, ma per portarle allo splendore serve ben altro che mani volenterose. I segni del tempo e dell'abbandono sono più profondi della semplice sporcizia. Il gesto dei volontari ha sicuramente portato un nuovo aninfa vitale al sito storico, ha portato civiltà e senso civico. Un'operazione del genere era avvenuta già l'estate scorsa ad opera di un gruppo di tifosi e la turis, ma dopo poche settimane i rifiuti tornarono ad invadere le antiche vasche. L'impegno è un gesto che rischia di cadere nel vuoto se adesso non segue la partecipazione di tutta la cittadinanza, con comportamenti responsabili e civili. Un impegno che deve essere continuato dalla stessa amministrazione comunale, con mezzi più consistenti della buona volontà e delle forti braccia dei volontari. Serve un intervento volto a salvare il nostro patrimonio storico e culturale e soprattutto una presenza costante per preservare e difendere le nostre eccellenze. Il cuore dei giovani non può diventare sempre una pezza per coprire le mancanze di chi dovrebbe davvero agire.